Soffro, sto male, soffro per quella povera ragazza. Voi siete un uomo? E potete ridervi dello scandalo voi? Ma noi siamo due povere donne sole e l'onta ricadrebbe su di noi. Parla, 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 sembra un filosofo. Essere in pratica io l'onesto marito di una donna che lei non può avere. Credetemi, da dieci mesi non respiriamo più. Perché dentro di me c'è una bestia orribile. Della quale io tutta la vita che cerco di liberarmi. Avremo finalmente una vita! Ha in tasca più di 300.000 lire. Io avrei potuto intascare questi soldi con due dita se fossi cascato nella trappola che costoro mi hanno teso. I più grandi peccatori diventano i santi più eccelsi a volte. Soffro, cosa fai? Lasciami! Tu che cosa sai? Di chi sono io? In me c'è un'anima buia, lo sai? Anche in me sono loro che devono abbassare lo sguardo davanti a te perché tu hai vergogna delle tue corpe. Tu verresti con me anche se io sono un ladro. Sì! 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 Sì!